Sarà accesa questa sera in pianza Sant'Antonio Abate a Novoli la focara che tradizionalmente veniva incendiata il 16 gennaio, vigile della festa in onore del Santo Patrono. Come è noto, contrariamente in quanto in programma, quest'anno non si è potuto tenere fede al rituale appuntamento in quanto le autorità preposte alla sicurezza non hanno dato il consenso a procedere, considerate le avverse condizioni meteorologiche. Nel corso della mattinata, in seguito alle determinazioni frutto di un confronto con la Commissione per la Sicurezza, riunitosi ad hoc per valutare che vi fossero le condizioni favorevole a procedere, si è stabilito di dar luogo all'accensione del simbolico falò e notorio. Infatti, come in questa edizione 2021, non sia stato possibile realizzare l'antico monumento, dando continuità alla fama che riconosce la focara di Novoli, uno dei più grandi e maestosi manufatti frutto della tradizione contadina in tutto il bacino del Mediterraneo. Ovviamente, come già per il 16 gennaio, anche questa sera, a partire dalle ore 20, non sarà consentita la presenza di pubblico, che però invece potrà seguire l'evento, sintonizzandosi sulle frequenze di antenna sud sui canali 13, 85 e 90 del digitale terrestre.